C'ho sempre storie in condizioni molto stile casa, cioè potrete vedere anche adesso sono in tuta, super easy, ma perché adesso stavo guardando un documentario per l'università, i capelli sono a naturale, non li piastro neanche, sto cercando di vivere diciamo un periodo di, non lo so, allora sia a livello psicologico, mi sto concentrando molto sullo studio, sui progetti futuri, su quello che verrà, e anche a livello fisico, quindi comunque mi sto rilassando, i capelli non li piastro, non li sistemo, metto maschere in posa, cerco di idratarmi, insomma di prendermi pura sia di me stessa, del mio corpo, che anche a livello psicologico.